Anche se nel tuo passato ci sono cose poco gloriose, abbiamo pensato a te per questo compito. Quindi apri bene le orecchie. Questa è l'ultima occasione per divertirti dalle stru... A te che hai fatto. Sono stato chiaro? Ma siete sicuri di questo? Perché io non so se sarò all'altezza. Sì, sì, andrai benissimo. Aspetta, un'ultima cosa. Adenotria. Lodate il sole! Wow! Accidenti, che bel posto! Beh, ora che siamo qui, è arrivato il momento di darsi da fa... Ah! Cominciamo da...